Emilio 90 Dall'8 giugno tutte le sere, 19 e 30 Italia 1 Frutta o dolce? Tutti e due Lo sapevo, l'ho fatta per te Torta di frutta cameo La frutta nella sua espressione più dolce Et voilà! Versa, versa Mesci, mesci Tavenello Rosso, bianco, carne e pesce di tutto un po' È leggero come un volo Tavenello Si posa sulla tavola per te Tavenello con Vini Italia Sponsor ufficiale Mondiali Novanti L'Italia di un gran vino è così Tavenello Corvin Il vino dell'Italia a tavola Ogni volta che ti lavi i capelli La permanente perde tono Elasticità Volume Scegli per Mencolor Lo shampoo Che non lava via la permanente E tu rimai bella più a lungo Per dare più vita alla permanente Per Mencolor Lasoni L'applicazione rapida di Lasoni Da sollievo Lasoni Riduce il gonfiore Attenua il dolore Favorisce il riassorbimento dell'ematoma Lasoni Trattamento immediato Pronto sollievo È un medicinale Usare con cautela Quando decidi di scoprire le gambe Deppin soap bronze Gambe depilate e subito abbronzate Deppin soap bronze Depila e abbronza Costa solo poco di più E se usi epilatori, rasoio, cerette Axor prepara Sicuro Cadei Quest'uomo è un dentista Per cui non possiamo mostrarvi il suo volto in tv Buongiorno dottore Vi siete mai chiesti quale spazzolino usano i dentisti per i propri denti? Oral-B Naturalmente In Italia la maggioranza dei dentisti usa oggi Oral-B Oral-B Lo spazzolino più usato dai dentisti Amici a sorpresa Sorpresa agli amici Mille foglie cameo è subito pronta La crema è istantanea E non ha bisogno di cuocere Ragazzi Sorpresa Mille foglie cameo Detto Fatto Cameo Il momento buono E non ha bisogno di cuocere E non ha bisogno di cuocere E non ha bisogno di cuocere E non hanno bisogno di cuocere Grazie a tutti.